La nostra azienda si chiama La Rimbecca, è un'azienda che ho ereditato dalla mia famiglia, è un'azienda di famiglia e facciamo questo lavoro da tanto tempo, sono diverse generazioni che ci occupiamo di agricoltura. È un'azienda tipica della Val d'Orcia, dove i terreni sono argillosi, sono in parte stati recuperati negli anni 50 da opere di bonifica delle zone calanchive che c'erano in quest'area e in parte invece erano dei terreni pianeggianti da sempre coltivati, sempre stati usati per la coltura del grano duro soprattutto, che è tipico di questa zona. Non facciamo solo grano duro, facciamo anche altri cereali come il farro, come l'avena e poi delle leguminose che mettiamo in rotazione ad anni alterni sulle culture, tipo trifogli, trifoglio squarroso, alessandrino o favino. Facciamo anche degli erbai e quindi anche la cenagione è un punto molto importante per noi, anche se non sono periodi molto facili perché non abbiamo un allevamento aziendale, quindi dobbiamo vendere tutti i prodotti all'esterno e quindi anche la zootecnia non attraversa un periodo molto felice, quindi è difficile anche vendere soprattutto quest'anno i foraggi che facciamo. Io ho conosciuto la Mayer nei primi anni 2000, la persona di Claudio Scarpelli che è venuto qui e con il quale abbiamo comprato all'inizio un trattore usato. Dopodiché siccome la mia azienda aveva bisogno di un rinnovamento pressoché radicale del parco macchine, sono stati acquistati anche altri mezzi, noi facciamo seminativi prevalentemente e foraggere, quindi abbiamo acquistato una falciatrice, abbiamo acquistato una rotomimballatrice, poi abbiamo una seminatrice, poi tutta una serie di macchine per la gestione delle nostre culture. Mi sono trovato bene, soprattutto nella persona anche di Alessio che ho conosciuto, che è il loro rappresentante commerciale di zona che è venuto da me e con il quale abbiamo instaurato un rapporto ottimo che va oltre l'aspetto professionale, ma poi è nata anche un'amicizia tra di noi e questo probabilmente influisce molto e quindi il nostro rapporto è continuato e l'assistenza è sempre stata efficace, efficiente e quando c'è bisogno sono sempre venuti e abbiamo cercato di risolvere tutti i problemi in tempi rapidi. Il magazzino ricambi è sempre piuttosto efficiente nel reperire quanto serve e quindi l'esperienza è positiva. Mi sento di consigliare Mayer perché hanno in mano dei brand importanti che sono delle macchine buone, soprattutto le attrezzature sono delle macchine con le quali mi sono trovato molto bene, per l'assistenza che alla fine funziona e anche per i venditori che si sono sempre dimostrati molto disponibili sia in fase diciamo precontrattuale che successivamente. Un saluto allora a tutta la Mayer, un in bocca al lupo per il futuro, a Fabio, a Riccardo, a Alessio con i quali ci vediamo piuttosto spesso.